Buongiorno e benvenuti nel canale di Officine Varisco. Oggi parleremo di corrosione. Più precisamente parleremo di corrosione e di protezione catodica all'interno dei bollitori o serbatoi per l'accumulo di acqua calda per uso igienico sanitario. Quest'acqua, che viene continuamente ricambiata, porta con sé l'ossigeno. I serbatoi, costruiti in acceio a carbonio, portano con l'incontro con l'ossigeno a innescare una reazione elettrochimica fari a una piccola combustione, dove l'ossigeno è il comburente e il ferro è il combustibile. Ora, questa reazione si tende a bloccare innanzitutto con i trattamenti superficiali. I trattamenti superficiali avvengono per la maggior parte a caldo e, malgrado siano eseguiti con cura e con moderne attrezzature, possono presentare delle piccole imperfezioni sulle superfici dell'involucro stesso. Queste piccole superfici, che lasciano scoperta la parte dell'acciaio a carbonio o del ferro, possono essere aggredite sempre dal nostro ossigeno, formare quella combustione di cui abbiamo parlato e ripartire con una corrosione che, essendo l'area ridotta, può essere ancor più aggressiva che non in un'area maggiormente scoperta. Per la protezione di queste piccole superfici rimaste scoperte dei trattamenti, vengono inseriti nei serbatoi degli anodi per la protezione cattodica. Questi anodi si dividono in due specie, l'anodo sacrificale al magnesio e l'anodo a corrente in pressa. L'anodo sacrificale al magnesio prende la denominazione di sacrificale proprio perché si consuma. Il suo consumo, dato dalle differenze di potenziale tra il magnesio che lo compone e il ferro, genera una piccola corrente che permette la precipitazione dei sali contenuti nell'acqua, in forma di carbonati di calcio e carbonati di magnesio, di andarsi a depositare su quelle piccole superfici per l'appunto rimaste scoperte e completare la protezione contro la corrosione. A differenza, l'anodo a corrente in pressa ha bisogno di una corrente esterna, infatti viene alimentata dalla corrente di rete, sviluppa una corrente all'interno del nostro bollitore di molto superiore, 8-10 volte superiore a quella dell'anodo sacrificale. Viene utilizzato soprattutto in caso di acque demineralizzate dove la quantità di sali è inferiore, pertanto abbiamo bisogno di un apporto di corrente maggiore per avere lo stesso effetto con l'anodo sacrificale, cioè che i nostri sali disciolti nell'acqua possano precipitare, sempre in forma di carbonati, ed andarsi a depositare sempre sulle aree rimaste scoperte. Naturalmente l'importanza della protezione catodica è fondamentale per quanto riguarda la vita del nostro bollitore. Dunque dobbiamo con molta cura sia nella fase iniziale di montaggio e sia di manutenzione verificare che gli anodi al magnesio sacrificali non debbano consumarsi completamente lasciando scoperta la nostra azione di protezione catodica e gli anodi a corrente in pressa non debbano rimanere senza corrente elettrica in modo anche lì da interrompere quello che è il servizio e lo scopo per cui sono stati montati. Ora diciamo che molte altre sono le motivazioni per cui si può innescare la corrosione all'interno del bollitore, ci possono essere gli inserimenti in corto di materiali più nobili quali rame, quali linux, ci possono essere le vibrazioni, ci possono essere le dilatazioni dovute al riscaldamento dell'acqua, ci possono essere degli shock termici. Di tutti questi, di questa casistica parleremo più compiutamente in altri video. Diciamo che per ora è tutto, non mi resta che chiedervi se vi è piaciuto il video di mettere mi piace, di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video, di andare a visitare il nostro sito dove troverete anche sul magazine degli articoli interessanti e tecnici. Per qualsiasi dubbio o domanda scriveteci. Grazie per ora è tutto e arrivederci al prossimo video. Grazie per la visione!